Grazie a tutti. Cambio di senso come volete, ritorno, lascio la palla qua, quando il compagno mi ha lasciato il pallone, qua parte il seguito, dopo che hai lasciato il pallone a tre, vi girate, buttate forte, ditte e quattro la sagoma, finta di corpo a sinistra, a destra e saltate avanti a voi e cambiate, non lo sapete. Va bene? Infatti seconda volta, finocchio fuori, dopo aver arrestato la palla, di nuovo finta di corpo, ancora a destra. Ok? Sempre a destra. Andate e ritorno a destra. Pronti? Ho! Arrivo. Scuso! Arresta la palla e puoi partire. Scuso! 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 Diamo ritmo, diamo ritmo, forza Marco! Vandati, si rompe, vandati, si rompe. Scuso! 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 un paletto con un piegno, un paletto con un altro, via, veloci, cerchiamo di aumentare un po' adesso, solleva le gambe, l'aiuto, apro, chiudo, cambio di senso, la punta di borsa a destra e a schia a sinistra, vai, chiudo, 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 Grazie a tutti. Vistro, braccio punto, il piede e il braccio. Da, puntare. Non è questo che arrivate e fatele troppo. Troppo, troppo, apro e vado. Fuoco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.